Più materiali e apparecchiature e ricorso a nuove tecnologie per l'esercito sono le promesse di Donald Trump e i suoi militari, promesse rese più credibili dai risparmi ottenuti con Boeing e Lockheed Martin. È la prima visita a Tampa Bay al CENTCOM da presidente e quindi capo delle forze armate statunitensi ed è stato accolto da un'ovazione. Proteggere gli Stati Uniti è il compito più importante che abbiamo ricordato per poi spiegarsi sull'Alleanza Atlantica. Gli Stati Uniti sono dalla parte di chi difende la libertà, li sosteniamo ogni ora, ogni giorno, adesso e sempre. Questo significa anche che gli alleati pagano una quota giusta per loro ma molto ingiusta per noi. Noi siamo fortemente a favore della Nato, chiediamo solo che tutti i suoi membri paghino pienamente i loro contributi all'Alleanza, cosa che molti di loro non fanno. Non è chiaro se Trump si riferisce al contributo diretto e indiretto dei Paesi membri o ai bilanci militari, capitolo nel quale effettivamente gli Stati Uniti hanno una spesa, ma anche un export, enormemente superiore a tutti gli alleati. Ma anche il contributo diretto al funzionamento della Nato è pagato da Washington per oltre un quinto della spesa totale, mentre è molto vicino alla metà il contributo di Londra e Parigi rispetto a quello americano.